Buongiorno, benvenuti a quello che è il terzo appuntamento del ciclo di incontri che abbiamo battezzato On Field per raccontare alcuni temi portanti dello scenario dell'Information e Communication Technology oggi in Italia attraverso soprattutto dati ed esperienze svolte sul campo l'evento è organizzato da Impreza City e Impreza Open Lab e prevede una strutturazione nella prima parte della quale verranno date alcune informazioni di scenario a cura di Next Value, sarò io a raccontarvi a queste informazioni sulla base dei dati di ricerca che comunque Next Value ha svolto sul tema e che ci serviranno per raccontare non tanto indicazioni di tipo macro, quindi indicazioni aggregate tipiche delle ricerche di mercato più complete, ma vorremmo dare alcuni spunti di riflessione che poi serviranno per introdurre il primo gruppo di appartenenti al mondo dei vendor, riprenderanno sostanzialmente e commenteranno e daranno le risposte che verosimilmente gli esponenti del mondo della domanda hanno messo sul tavolo, daranno delle loro risposte a questi temi e approfondiranno anche alcuni altri aspetti sempre legati al tema dell'Enterprise Mobility per poi chiudere in modalità interattiva, aprendo la discussione aperta tra le persone che hanno partecipato, che hanno raccontato dal loro specifico punto di vista e chi del pubblico vorrà offrirci qualche commento o chiarire qualche dubbio che nel frattempo sarà emerso. Allora, come dicevamo, la prima parte prevede qualche dato, qualche informazione che ci racconta un po' come oggi possiamo interpretare lo scenario evolutivo dell'Enterprise Mobility in Italia. Le premesse doverose sono legate al fatto che i dati che andremo a raccontare sono il frutto dell'attività di ricerca di Next Value che si basa sul fatto che Alfredo Gatti è anche il coordinatore del capitolo italiano dell'associazione CIO.net, che è appunto un'associazione di CIO, è un'iniziativa partita a livello internazionale, il cui capitolo italiano è coordinato appunto da Alfredo Gatti e questa associazione raccoglie in Italia circa 530 CIO che appartengono a una fascia dimensionale di tipo medio-grande. Questo chiaramente influenza anche il tipo di informazioni, il tipo di linee di tendenza che emergono dei dati che andremo a raccontare. Vediamo le prime informazioni che possiamo fornire su questo tema, sul tema che vogliamo affrontare oggi. Questo è un grafico diviso in due parti sostanzialmente. Nella prima parte si evidenzia che cosa è stato fatto oggi, che cosa può essere ricondotto oggi all'interno delle aziende al concetto di Enterprise Mobility. Quello che si può notare è che il significato poi della esposizione sotto forma di curva è legato al fatto che si vuole evidenziare come questa curva sia profondamente discendente dal primo all'ultimo degli elementi che sono stati analizzati. Quello che si può notare è che la stragrande maggioranza delle aziende, qui parliamo di un campione di circa 160 aziende, che sono il frutto poi dei dati che verranno esposti in questa prima parte, la stragrande maggioranza di questo campione di aziende ha all'interno della propria realtà sviluppato delle applicazioni mobili o ha acquistato dei dispositivi mobile che vengono utilizzati anche all'interno delle aziende per accedere a dati o informazioni o comunque alla rete aziendale. Alfredo ha voluto indicarlo come quick wins perché si tratta comunque evidentemente della prima e più facile reazione alle sollecitazioni che arrivano dalle linee di business o dal management delle aziende, quindi dagli altri bacini di riferimento all'interno delle aziende per il mondo dell'IT. Non è un mistero che molte stimolazioni che hanno a che fare con l'utilizzo del dispositivo mobile e delle applicazioni adesso collegate derivano da esigenze che partono da altri ambienti dell'azienda. Come si risponde? quello che si evidenzia è che l'accettazione di queste stimolazioni porta alla implementazione e alla gestione di dispositivi o di applicazioni collegate a questi dispositivi. Tuttavia non appena si sposta l'attenzione su attività che hanno più a che fare con il core dell'IT aziendale, si può notare che la curva discende radicalmente e già la trasformazione in mobilità delle applicazioni aziendali già storicamente implementate porta ad un'attuazione di questa attività in un circa 30 per cento. Quindi già c'è un abbattimento sostanziale e già entriamo nella 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 in quella parte di sviluppi che hanno già abbastanza a che fare con il rapporto tra le le componenti essenziali della tecnologia e il loro utilizzo nei contesti di business delle aziende di riferimento. Ancora più basso è ancora più bassa è la percentuale nel momento in cui si parla di innovazione questo non è che sia un grande mistero in assoluto si fa molta fatica a innovare in italia per vari per per vari motivi la tecnologia dovrebbe essere uno dei motori di innovazione poi ci possono essere anche degli degli elementi oggi che fanno pensare che forse in termini evolutivi parliamo degli oggetti connessi per per capirci possono essere oggi delle dei nuovi motori ma di sviluppo dell'innovazione però fino a questo punto in generale il concetto di innovazione fatica a emergere anche tra le tra le aziende medio grandi in italia a maggior ragione l'innovazione legata alla 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 mobility è ancora abbastanza poco poco presente la seconda parte del del grafico sottolinea quale sia la componente di di impatto sull'organizzazione che ciascuna di queste delle delle tre segmenti di implementazione della mobility a e quali effetti porta come si può notare anche qui non è solo e solo come dire una visualizzazione della della del peso della delle delle attività che che comporta l'implementazione di concetti di mobility all'interno dell'azienda è chiaro che lo sviluppo di applicazioni pure semplici o l'implementa o l'integrazione dell'utilizzo di dispositivi mobili all'interno delle aziende non ha una particolare non ha un particolare impatto se non appunto qualche sforzo a livello implementativo e sull'aggiornamento delle tecnologie via via che i processi diventano più 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 complessi e impattano sulla sulla sull'operatività e sul rapporto con il business chiaramente anche l'impatto sull'organizzazione è molto più elevato questo significa che gli sforzi richiesti i tempi di attuazione di questi progetti sono evidentemente più lunghi più complessi e per il momento poco affrontati sempre questo il campione che è stato utilizzato per per questa per la per l'identificazione dei dati che hanno a a che fare col mercato dell'enterprise mobility in italia questa questo 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 grafico sintetizza che cosa si intende che cosa lo fatto oggi nelle aziende quando per trasformare il semplice la semplice integrazione di componenti della mobility in un concetto di strategia legata all'enterprise mobility quello che si può notare in maniera piuttosto evidente è che non c'è 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 un 20 per cento che non ha nessuna strategia in questo senso non è un dato particolarmente non sarebbe un dato particolarmente preoccupante se non fosse che c'è un altro 37 per cento che indica di aver adottato una strategia dell'enterprise mobility ma io per un periodo di tempo un arco temporale inferiore ai 12 mesi questo significa chiaramente che la visione del del concetto di enterprise mobility è legata ad esigenze puramente tattiche questo conferma quello che viene che è stato già evidenziato nella nel grafico precedente cioè che comunque laddove si è affrontato il tema lo si è affrontato per risolvere delle richieste con delle problematiche contingenti legate a richieste appunto che derivano magari da altre componenti dell'azienda ma non si è andati per il momento molto più in là c'è comunque un 22 per cento di realtà che ha disegnato una strategia di medio lungo termine e questo è la è la base di partenza da quello che quest'altro 21 per cento che dice di averla messa in cantiere per i successivi 12 mesi lascia intendere che comunque ci sia un processo evolutivo in questa direzione che magari non sia particolarmente rapido ma che comunque sia un percorso che progressivamente le aziende italiane stanno adottando poi cercheremo di capire anche con i nostri ospiti che cosa significa adottare una strategia legata al concetto di enterprise mobility quali elementi comporta quali e come può intervenire sia sull'organizzazione aziendale sia sui rapporti con le altre componenti dell'azienda ecco questo quest'ulteriore dato ci fa notare come la scelta di non adottare più di tanto in che impatta sulle attività core dell'IT nei rapporti con il business porti anche ad una ancora scarsa possibilità di misurare gli effetti che il cambiamento di paradigma può portare e alla misurabilità di questi effetti la domanda specifica chiedeva di indicare se fossero stati adottati degli indicatori di performance legati agli investimenti nel mondo dell'entreprise mobility quello che emerge è che più del 70 per cento del campione non ne ha siccome una volta insegnavano nei workshop per i manager che non si può gestire quello che non si può misurare questo evidentemente è un dato ancora oggi abbastanza preoccupante e che ulteriormente rafforza quello che diciamo che diciamo fin dall'inizio cioè che laddove comunque esiste esiste una realtà che ha integrato il concetto di mobilità lo ha fatto in maniera tattica anche anche chi ha già implementato qualche kpi cioè qualche indicatore di performance indicatore di misurazione dei risultati legati agli investimenti in mobility lo ha fatto in maniera parziale lo ha fatto con alcuni indicatori basici e quindi solo il 5 per cento ha una una ha invece implementato indicatori di misurazione delle prestazioni effettivamente efficaci e mirati agli investimenti fatti qui entriamo in un altro in un aspetto operativo che è conseguenza delle scelte effettuate nel momento in cui si è deciso di per vari motivi per i motivi che abbiamo anche un po accennato prima si è deciso di di fare degli investimenti in direzione della della mobilità aziendale è chiaro che nel momento in cui si 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 deve adattare il il di parco applicativo soprattutto al al nuovo paradigma nella nuova presenza di di dispositivi di accesso occorre adattare le applicazioni appunto in una in un'ottica di di utilizzo in mobilità quello che si si può notare è che tendenzialmente le aziende non hanno non hanno per più di tanto competenze interne utili sufficienti per gestire completamente all'interno questo questo processo evolutivo tant'è vero che oltre al a un 20 per cento che non fa attività di sviluppo ma è che conferma che esiste comunque una fetta del del mondo delle medie grandi aziende in base al campione che in questo momento non ha ancora affrontato in assoluto la tematica c'è solo un 18 per cento che gestisce completamente all'interno il il processo di sviluppo delle delle applicazioni in ottica di mobilità mentre la stragrande maggioranza fa leva sul sull'intervento anche di di competenze acquisite all'esterno è anche interessante notare come ci sia un 21 per cento di 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 questo di questo di questa di questa di questo grafico che evidenzia come il controllo del del dei processi legati all'interprise mobility non sia più in mano all'organizzazione it ma sia controllato sia 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 gestito da componenti del 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 mondo del business quindi è chiaro che quello che si sta si sta dicendo si sta su cui si sta riflettendo da diverso tempo a questa parte cioè sul fatto che alcuni alcuni fronti di innovazione nascono crescono e si sviluppano all'esterno del mondo l'iti che forse non è in grado di dare le risposte adeguate a alle sollecitazioni che emergono trova conferma in 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 questa anche 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 in questo in questo segmento proprio perché c'è questo 21 per cento di 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 realtà aziendali nelle quali i processi legati alla mobilità hanno una governance gestita dalle linee di business questo comporta chiaramente questo questo insieme di riflessioni che nascono da questo da questo grafico portano delle riflessioni che poi affronteremo nella prima ma soprattutto nella seconda parte della della nostra mattinata anche sulle metodologie di sviluppo su come lo sviluppo delle applicazioni cambia ed evolve nel momento in cui si passa dal paradigma tradizionale dell'iti a quello legato alla mobili alla mobility questo è questa è l'ultima l'ultima slide ultima l'ultimo grafico di scenario che serve appunto poi per introdurre la 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 discussione fra gli esponenti del mondo della domanda e ci dice ci da delle ci da una linea di una linea di tendenza di sviluppo per nel breve periodo cioè ci dice che cosa su che cosa è successo cosa sta succedendo in questo momento rispetto a quello che è successo lo scorso anno nello sviluppo di applicazioni di enterprise legate alla mobilità aziendale questo ci dice quelli grafico ci dice sostanzialmente che c'è un percorso evolutivo in atto perché mentre più o meno rimane stabile la percentuale di aziende nella quale non si sviluppano applicazioni applica non si sono sviluppate applicazioni mobile c'è un travaso completo di di numeri fra chi ne ha sviluppate meno di 5 e chi ne ha sviluppate più di 5 poi il numero il numero può cambiare il numero complessivo però c'è questa evidente riduzione della percentuale di aziende che hanno sviluppato meno di 5 applicazioni nel 2013 nel 2014 sono molte di meno e questa percentuale di regresso si è trasferita nelle componenti successive della slide quindi chi ha già investito nello sviluppo di applicazioni sta proseguendo lungo questa direzione e continuerà a farlo presumibilmente anche nel tempo avvenire bene con questo quindi abbiamo terminato l'introduzione di scenario sulla base appunto delle indicazioni che ci ha fornito next value